Bologna festeggia i 357 anni della Mortadella con un evento speciale, la prima edizione di Mortadella Day che dal cuore della città, da San Petronio, da Piazza Maggiore dove ci troviamo in questo momento, poi ci porterà anche a Fico. Era infatti esattamente il 24 ottobre del 1661 quando il Cardinal Farnese emanò l'editto per regolamentare la produzione della Mortadella e come giusto che sia Bologna celebra questo ambito traguardo del salume che porta il suo nome. Corradino Marconi, Presidente e Consorzio della Mortadella Bologna e GP, sono passati 357 anni da quel editto del Cardinal Farnese, bisogna ancora proteggerla? Sì, bisogna difenderla perché siamo qua per ricordare un editto ma per ricordare anche come si faceva allora e come si fa oggi a tutelare un prodotto così importante per la bilancia commerciale bolognese di allora ma anche la bilancia commerciale italiana di oggi. Allora c'erano tante contraffazioni e fuori dalle mura si cominciava a produrre Mortadella Bologna e quindi il Cardinal Farnese decise di fare questo editto per difendere da una parte la corporazione dei salaroli ma anche la bilancia commerciale bolognese perché rischiavamo di fare mortadella non come era fatta dai salaroli. Quindi le tre regole erano collocare l'insuina solo dentro le mura, solo certificati dai salaroli. Questo ha fatto e noi Consorzio Mortadella Bologna non facciamo altro che seguire quello che il Cardinal ci ha insegnato. Mortadella sacra profana? Mortadella sacra perché non avrei mai immaginato quando da ragazzo mangiavo la mortadella che essa avesse una dentellata così stretta con il Cardinal Farnese, un editto che ne indica la dignità e anche la spiritualità, la Santa Mortadella e oggi siamo qui a parlare sul Sagrato di San Petronio con un monumento, una scultura di Nicola Zabboni che illustra la mortadella e quasi potrebbe rimanere lì come una scultura che ha a che fare con i Santi, con la Vergine, di questo mi sembra la singolarità di oggi. La mortadella che è diventata un po' un simbolo della nostra città e oggi è anche legata a doppio filo con la solidarietà perché non dimentichiamo che saranno i più bisognosi e poi a godere anche di questa mortadella. Si se ne rimane perché vedo che ci sono bisognosi molto, no è una battuta per dire insomma no no è bello questo segno di solidarietà che in qualche modo collega poi un prodotto davvero di eccellenza con le persone che si rivolgono alle varie mense della città che sono diverse appunto dalle cucine popolari di Morgantini alla mensa della Fraternità della Caritas all'Antoniano. Abbiamo detto che il Cardinal Farnese ha fatto l'editto per tutelare anche un comparto economico e oggi quanto vale? Oggi vale 35 milioni di chili che con un prezzo medio di 11-12 euro al chilo fa anche centinaia di migliaio, cioè centinaia di milioni di euro. Quindi è il secondo salume per fatturato, intorno ai 400 milioni di euro di fatturato al consumo. Dopo il prosciutto di Parma siamo più o meno in linea con San Daniele diciamo a livello di fatturato. Volumi siamo addirittura superiore e sta andando molto l'estero. Quali sono i paesi più affezionati nel bene e nel male alla mortadella? In Europa diciamo Francia, Germania, Gran Bretagna, Belgio e anche la Spagna che ogni tanto ci imitano un pochino. Una letterina degli avvocati ogni tanto va ma di solito la risolviamo così ma era da gentile diciamo. E invece fuori dall'Europa va soprattutto in paesi come la Croazia, il Giappone e gli Stati Uniti. Il Giappone è uno dei paesi che ha la maggiore potenzialità perché i giapponesi adorano la cucina italiana, lo gioca italiano. E adesso c'è la Cina, la Cina è vicina perché la Cina è il consumatore, sono quelli che consumano più carne di suina al mondo. E tra l'altro i loro salumi sono salumi cotti quindi simili alla mortadella tipo dei wusteroni. Però noi siamo più buoni e quindi il mercato cinese ha un potenziale pazzesco. Dal cuore storico della città ci siamo spostati al cuore enogastronomico di Bologna. Sto parlando di Fico Italy World. Anche qui ovviamente domina il rosa e la mortadella. Bologna e GP oltre a stuzzicare il palato diventa protagonista di opere d'arte e di strumenti di solidarietà. Opere d'arte, a dire il vero, già questa mattina in Piazza Maggiore a Bologna abbiamo visto la statua celebrativa della mortadella realizzata dallo scultore Nicola Zamboni che è stata donata all'Arcidiocesi di Bologna. Però qui a Fico invece c'è uno street artist, Mr. Wonny, dal vivo. Prepara un quadro con protagonista ovviamente la mortadella che viene battuto all'asta e il ricavato viene devoluto a favore degli sfollati del Ponte Morandi di Genova. Alle mie spalle invece cosa sta succedendo? Qui ci sono le degustazioni preparate dallo chef Marcello Ferrarini che ci dimostrano quanto la mortadella sia versatile in tantissimi piatti, in tantissime preparazioni anche molto innovativi. Basta dirne una per tutti, un sushi di mortadella. E da qui, da Fico, per questa prima edizione di Mortadella Day è tutto, restituisco la linea. Noi ci ritroviamo in finale di puntata.